Arriva l'ultimo giorno di luglio e per chi passerà agosto a casa si pone il problema di come affrontare l'ultimo mese di caldo in pianura padana, un disagio avvertito maggiormente dagli anziani per cui il comune di Ozzero ha pensato a delle gite particolari nei centri commerciali dove invece c'è l'aria condizionata. Abbiamo pensato, visto che già come servizi sociali ci occupavamo di portare gli anziani ogni venerdì al mercato di Abietegrasso, questo avviene praticamente per tutto l'anno, dato il caldo importante che sta facendo in questi giorni anche se ultimamente ha un pochettino rinfrescato, volevamo dare l'opportunità ai nostri anziani non avendo centri recreativi sul territorio che possano accoglierli e farli passare delle giornate al fresco. Abbiamo pensato di portarli con il nostro pulmino dei servizi sociali e sfruttando qualche volontario che possa occuparsi appunto di guidare il pulmino da e per un centro commerciale, di portarli appunto a farsi una mezza giornata al fresco in qualche centro commerciale della zona. Dal 31 luglio al 31 agosto, il lunedì e il giovedì un bus di navetta partirà da Ozzero alle 10 e farà ritorno nel comune dell'Abiatense alle 16. in modo da poterli permettere di effettuare i propri acquisti, di fare la spesa e di potersi godere anche una mezza giornata al fresco e quindi lontano dal caldo torrido che ci sta un pochettino tannelliando in questo ultimo periodo.